È la festa del paese, un tizio si avvicina al sacerdote con cui ha una certa amicizia e confidenza e gli dice padre, volemo fare un gioco a chi se ne è trombate di più dentro a sta festa e il padre, e dai c'è sto, ah padre, la vedi quella lì seduta vicino al complessino e il padre, e come ne la vedo, ecco padre, io quella me la so scopata e il padre, eppure io, ammazza padre, c'è proprio un fio dentro l'occhia e invece padre, quella lì vicino al fioraio, lo sai che io me la so trombata e il padre, eppure io, ammazza padre, ma sei proprio un paraguagliano senti padre, però a far sto gioco a alta voce qui se la rischiamo io con la famiglia e tu con la chiesa famo una cosa, se una me la so trombata io, dico tic se te la sei trombata pure tu, dici toc, così almeno la gente non se ne accorge e il padre, e dai io ce sto allora questo, ah padre, la vedi quella lì seduta in mezzo a quel gruppo di ragazze quella bionda, tic, e il padre, toc, ammazza padre che paraculo senti padre, quella lì è seduta vicino alla tabaccheria invece tic, e il padre, toc, ammazza padre ma sei proprio un fio della mignotta te le sei trombate praticamente tutte ce le sono rimaste soltanto mi moglie e mi fia e il padre, toc toc ciao 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 ciao